Ciao ragazzi, nuovo video TuttoTec e di poche ore fa la notizia che il nostro assistente vocale, chiedendogli una determinata cosa, ha un regalo per noi. Bello, brutto, andiamo a vederlo insieme e poi valuteremo. Buona estate! È arrivata l'estate, urrà! Ho deciso di farti una sorpresa per divertirti durante l'estate. Se vuoi sapere di cosa si tratta, ti manderò le informazioni per attivarla alla mail collegata al tuo account. Vuoi ricevere la tua sorpresa? Ciao! Ciao! Grazie! Allora ragazzi ve lo dico io, si tratta di tre mesi di Amazon Music Unlimited, totalmente gratuiti. Avete la possibilità poi, una volta attivati, come diceva, tramite la mail o tramite il link, perché a questa opzione possono accedere anche quelli che non hanno un dispositivo eco, quindi chiunque può accedervi con delle limitazioni del tipo, se una persona ha già attivato la vecchia promozione quando era Natale o la Befana, che ci augurava, gli si augurava il Buon Natale o Befana o che cosa, adesso non ricordo esattamente, ci avevamo fatto anche un video, dava sempre questa possibilità dei tre mesi. Se già avete usufruito dei tre mesi precedentemente, non potete attivare questa promozione. E dovete essere maggiorelli naturalmente. La cosa bella e chiara di Amazon è che se attivate questa promozione, per tre mesi non pagate nulla, se non fate nulla si attiverà automaticamente a 9,90€ al mese, ma se per caso non volete più aderire a questo tipo di promozione, vi basterà semplicemente andare sul sito Amazon e andare a disabilitare questa funzione, questo abbonamento. Non servono raccomandate, telegrammi o cose strane, vi basterà semplicemente fare tutto questo. Io l'attiverò? Non lo so sinceramente, perché per quello che ascolto io il palinsesto che mi viene offerto dalla piattaforma Amazon è veramente ampio. E poi abbiamo notato che stanno spingendo parecchio, il colosso americano sta spingendo parecchio per quanto riguarda Amazon Music Unlimited. Sicuramente cerca comunque di tenersi sempre un po' più avanti rispetto anche alla concorrenza e per quanto riguarda tanti prodotti ce la sta facendo tranquillamente. Bene ragazzi, era un video molto veloce per darvi anche questa notizia, poi sta a voi decidere se attivarlo o meno. Adesso siamo nel periodo estivo, quindi potrebbe essere un qualcosa di gradevole per quando si va a fare il viaggio avere a disposizione milioni di tutti i brani e poter scegliere tranquillamente senza sentire la voce che ti dica no, questa canzone non è disponibile a meno che tu non ti faccia Amazon Music Unlimited. Quindi stop a questa frase e io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Ciao!